Buon pomodiggio a tutti e a tutte. Io non sono Roberto Lalli, che purtroppo è risultato positivo al Covid e dunque non può essere presente oggi. Per quanto abbia solo sintomi lievi, quindi auguriamo a Roberto una veloce negativizzazione e invece procediamo con l'incontro di oggi. Io sono Alvisa Mattozzi e sostituisco Roberto, come avete capito. Roberto è uno storico, anche il mio ambito di ricerca è uno storico della scienza, anche il mio ambito di ricerca è quello delle scienze sociali e umane, sono un sociologo, ed entrambi siamo parte di un piccolo contingente di umanisti e scienziati sociali assunto di recente al Politecnico per portare nell'ambito della ricerca e della didattica il tipo di dialogo intorno alla tecnologia promosso appunto con questi incontri, promosso con Biennale Tecnologie. Dunque io oggi ho l'onore e l'onere di introdurvi il professor Jürgen Renn, cosa che potrò fare con molta meno competenza di Roberto, dato che Roberto non solo proviene dallo stesso ambito di ricerca del professor Renn, che appunto è quello della storia della scienza, ma ha anche collaborato con lui, quindi appunto si conoscono, Roberto è un amico, quindi senz'altro sarebbe stato molto più in grado di presentarlo di quanto posso fare io. Allora, il professor Jürgen Renn è direttore del Dipartimento 1 del Max Planck Institute for the History of Science, sin dalla fondazione dell'istituto. Nella sua attività ha contribuito in maniera sostanziale a plasmare gli sviluppi disciplinari della storia della scienza, sia dal punto di vista delle nostre conoscenze, sia dal punto di vista metodologico, come pioniere dell'uso sistematico della digitalizzazione, fino ai tempi più recenti, come uno dei massimi promotori di un approccio computazionale alla storia della conoscenza, ma anche dal punto di vista istituzionale, rendendo il suo Dipartimento un nodo centrale nella circolazione di studiosi nella storia della scienza e della tecnica. E io devo dire che il professor Renn l'ho conosciuto prima attraverso i suoi collaboratori, le persone che, molti sono italiani e italiane, e appunto incontravo questi molto bravi ricercatori con cui ho avuto una serie di scambi e in qualche modo attraverso loro poi ho scoperto il professor Renn. Quindi è vero che attraverso la sua istituzione promuove una serie di ricerche e di ricercatori e ricercatrici, cosa non poco importante. Nel suo lavoro è stato guidato dall'obiettivo di comprendere la struttura dei processi di evoluzione dei sistemi di conoscenza, con studi che spaziavano dal periodo preistorico alla contemporaneità e con uno sguardo alla diffusione globale del sapere nei diversi periodi storici, in cooperazione con studiosi provenienti da varie parti del mondo. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la sua attività, incluso il premio della European Society for the History of Science e il recentissimo premio Abraham Pace dell'American Physical Society per il suo contributo alla storia della fisica. Non abbiamo tempo di elencare tutti i lavori del professor Renn, che hanno avuto un forte impatto anche al di là del mondo accademico, ma sottolineiamo il suo ultimo lavoro collegato alla presentazione di oggi e recentemente tradotto in italiano da Carocci, l'evoluzione della conoscenza dalle origini all'antropocene. Un libro che intende inquadrare le relazioni tra gli studi di storia della conoscenza e gli attuali discorsi sull'antropocene. Un percorso intellettuale, ma di nuovo anche istituzionale, che ha portato il professor Renn a farsi promotore negli ultimi anni della fondazione di un nuovo istituto della Max Planck Society, il Max Planck Institute for Geoantropology. Un'attività che è stata coronata dal successo, dato che il Max Planck ha deciso di fondare effettivamente questo istituto, che si prefigge l'obiettivo di studiare e modellare le relazioni uomo-sistema-terra con un approccio multidisciplinare per creare nuove conoscenze che possono aiutare gli esseri umani ad affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte nell'epoca dell'antropocene. È proprio di questo che parlerà il professor Renn oggi, con il titolo della presentazione appunto che è Tecnosfera e Antropocene, per un approccio multidisciplinare alle sfide globali, lascio la parola al professor Renn, che ringrazio per essere qui e anche per conoscere molto bene l'italiano, che rende tutto più facile. Vediamo. Grazie Alvise per questa introduzione molto concisa. Non siamo ancora amici, ma lo possiamo sempre diventare. Vediamo. Ma dopo questa introduzione le speranze sono alte. L'introduzione veramente è una buona introduzione a quello di cui vi voglio parlare, cioè un nuovo approccio, una nuova prospettiva sulla crisi attuale dell'umanità, che è una crisi del clima, ma non solo. Ma comunque cominciamo con questo. Viviamo un momento unico nella storia della Terra. Questi anni che vedete qua, dal 2010 fino al 2020, sono i dieci anni più caldi nella storia umana, da quando abbiamo cominciato a ricordare le temperature sistematicamente. Cioè, veramente un momento unico. È una crisi climatica. Come sapete tutti, a Shammel Shaikh, i politici, gli scienziati si incontrano e parlano di questo, ma non è l'unica crisi, ma viviamo una crisi multipla che è connessa. E comincio a farvi vedere alcune immagini e vi chiedo come sono connesse queste immagini. Questo è un animale in gabbia, non so se lo riconoscete. E questa è la seconda immagine, una strada vuota di Londra. Qual è la connessione? Lo sapete soprattutto il Covid. Il prossimo paio di immagini. La foresta pluviale tagliata per fare spazio all'agricoltura dei fagioli di soia. Seconda immagine. Uomini che fanno il lavoro delle api in alberi di pera, in Sichuan, in Cina. Qual è la connessione? Uso dell'agricoltura intensificata e perdita della biodiversità. Questo era facile. Ora diventa un po' più difficile. Questo è un grafico delle anomalie temporali negli ultimi 20.000 anni. E quello che vedete subito è questo lungo tratto da circa 11.000 anni fa fino a oggi, che caratterizza un lungo periodo di stabilità. E questo è il periodo geologico che i geologi chiamano l'Olocene. E ne parleremo ancora. Qua a destra vedete le proiezioni del IPCC su quello che succederà nel futuro se non riusciamo a bloccare il cambiamento del clima. E comunque qualcosa succederà in ogni caso. E lo vedete, su questa scala non c'è paragone con nessun evento del passato negli ultimi 20.000 anni. E questo cos'è? Una tavoletta protocuniforme di circa 3.000 anni fa. Cos'è la connessione tra questi due grafici? Questa è l'origine della urbanizzazione e l'origine, cioè, di molte cose di cui godiamo oggi nella cultura umana, cioè tutta la cultura umana, dalla cosiddetta rivoluzione neolitica, la domesticazione di piante e animali, fino all'urbanizzazione e tutte le altre rivoluzioni e tutti gli altri acquisti culturali, sono successi in quel tratto stabile che vi ho fatto vedere prima, nell'Olocene. E ora stiamo lasciando questa nicchia che abbiamo costruito di condizioni climatiche super stabili, anche su una scala geologica. Ecco la connessione. Ecco, ancora una volta queste immagini. Qua è anche scritto cosa è. È chiaro che un adattamento alle nuove condizioni previste per il futuro, se non riusciamo, e sembra difficile, aggiungere gli scopi dell'Accordo di Parigi del 2015, un adattamento sarà difficile se non impossibile. Ecco, noi umani abbiamo creato una nicchia, la nostra nicchia su questo pianeta, abbiamo creato città, civilizzazioni, una lunga storia, e la scienza ha contribuito in maniera essenziale. Qua vedete immagini che caratterizzano la scienza, ma cosa può fare la scienza ora per analizzare questo stato di cui abbiamo parlato, questo cambiamento del clima, la perdita della biodiversità, la distruzione degli ambienti. La scienza tende a focalizzare sul dettaglio, sul microscopico, se vogliamo, ma ora parliamo di quello che Johan Rockström ha chiamato i confini planetari. I confini planetari non sono solo confini dell'atmosfera, ma toccano anche tutte le altre sfere del nostro sistema terrestre. Allora la scienza, se vuole rispondere a questa sfida globale, deve anche sviluppare una prospettiva globale, e non solo concentrarsi sulle discipline in maniera isolata, ma deve ampiare la sua vista a vedere tutto questo cambiamento sistemico con cui siamo confrontati. Ecco, un uomo che ha riconosciuto questa necessità abbastanza presto è Paul Crutzen, premio Nobel di chimica. Il premio Nobel l'ha ricevuto per il suo lavoro sul buco di ozone, perché lui ha capito come funziona il meccanismo e anche quando l'ha capito è diventato anche politicamente attivo, ha lanciato il protocollo di Montreal che ha proibito certe sostanze chimiche e in questa maniera si può quasi dire ha potuto salvare l'umanità. Ma poi nell'anno 2000, all'occasione di una conferenza a Mexico City, quando i geologi, biologi e altri parlavano dell'olocene, che vi ho fatto vedere prima, questo lungo periodo stabile, ha detto no, no, i cambiamenti sono così drastici che non viviamo più nell'olocene. E poi ha cercato una parola per caratterizzare il nuovo stato del sistema terrestre. Ecco quello che ha poi scritto, dopo questa intuizione spontanea all'occasione di questa conferenza, e scrive, sembra appropriato assegnare il termine antropocene all'attuale epoca geologica per molti versi dominata dall'uomo che si aggiunge all'olocene, il periodo caldo degli ultimi 10 fino a 12 milenni. Ecco, allora è nato il concetto per questa occasione e ha lanciato un'esplosione di scritti, di attività scientifiche, gli stratigrafi l'hanno preso sul serio, possiamo veramente identificare le tracce umane nella sedimentazione fossile, cioè siamo in processo di creare veramente una nuova epoca della geologia. E questo lavoro è ancora in corso, ma il concetto dell'antropocene, oltre alla geologia, ha toccato tante altre discipline e soprattutto ha creato, per questo per me è molto importante, per questo sembra, per questa occasione della Biennale, un concetto veramente centrale, ha creato un ponte tra le discipline delle scienze naturali e le scienze sociali e le scienze umanistiche, perché se l'uomo è diventato un fattore geologico, come tutti i fiumi sulla terra muove più materia di tutti i fiumi messi insieme, gli animali, i mammiferi domesticati dall'uomo sono la più grande parte dei mammiferi viventi sulla terra di lungo. Allora, se abbiamo una unità tra tempo storico e tempo geologico, allora anche le discipline devono tener conto di questo intreccio e devono riformarsi e devono sviluppare delle nuove prospettive per rispondere in maniera adeguata a questa sfida globale. Ecco, qual è la sfida? L'antropocene è una conseguenza di complesse e lunghe dinamiche coevolutive, ha delle radici molto profonde nella storia ammana. Questo è un argomento che viene molto discusso quando ha cominciato l'antropocene. Ci torneremo fra un po'. Stiamo plasmando e ingegnerizzando il nostro pianeta su scala globale. L'umanità non si trova più in uno spazio operativo sicuro. Spazio operativo sicuro significa che stiamo per trascendere i confini planetari che vi ho mostrato prima. nuove sfide globali emergono a un ritmo rapido, e si deve dire sempre più rapido, e contribuiscono a rischi sistemici i fallimenti di sistemi terrestri, di cui dipendiamo. Per affrontare queste sfide è necessaria una nuova comprensione scientifica. E noi abbiamo chiamato, insieme ad altri scienziati, questo nuovo approccio geo-antropologia. Geo, perché la terra, e antropos, perché l'uomo è causa, ma non l'uomo in generale. Ovviamente l'umanità è socialmente molto differenziata. Bisogna veramente distinguere chi sono i responsabili e chi sono i fattori. Comunque, quello che cerchiamo di sviluppare è una prospettiva globale sulle dinamiche del sistema accoppiato uomo-terra. Questo è un processo un po' simile a quello che ha subito la geologia negli ultimi decenni, perché anche la geologia ha cominciato a trasformarsi in una scienza del sistema terrestre, che copre tutte le sfere, l'atmosfera, la biosfera, e lo vede come un insieme. Ora dobbiamo includere anche l'uomo in questa prospettiva sistemica. E questo è quello che la geo-antropologia cerca di fare. Un po' la traiettoria, Alvise lo diceva prima, ho abbozzato nel mio libro, io di formazione sono storico della scienza, ma ho visto che la storia della scienza è un campo in cui anche si incontrano scienze umanistiche e scienze naturali, che forse può contribuire a sviluppare questa prospettiva. Ecco, è forse a capire la connessione tra queste sfere molto diverse, da questi campi molto diversi che vi ho illustrato con le immagini dell'inizio. Ecco, ma per essere un po' più concreto vi ho portato tre problemi di ricerca di cui dobbiamo occuparci, perché sono importanti per capire la dinamica. Uno, ve l'ho già accennato, è come ci siamo arrivati in questa situazione. E lì ci sono varie proposte in giro. Uno è, diciamo, la proposta della costante antropologica, siamo uomini che vogliamo dominare la terra, come c'è già scritto nella Bibbia. Noi vogliamo controllare tutto, dominare tutto, è nella nostra caratteristica antropologica. Altre proposte sono più concrete. l'uso del fuoco, l'estinzione della megafauna nel Pleistocene, o la rivoluzione neolitica, o il contatto tra Europa e America al tempo di Colombo, cioè il Columbian Exchange, come viene chiamato, o l'industrializzazione. quando Crutzen fece questa proposta, lui si riferiva alla rivoluzione industriale dell'Ottocento. Oggi si parla molto, e ve ne parlerò in più dettaglio, della grande accelerazione come possibile origine dell'antropocene. Ma bisogna lì distinguere, no? L'antropocene come problema stratigrafico, cioè quali sono le tracce che troveremo fra un milione di anni nei fossili che rimangono di noi. Questa è la prospettiva stratigrafica, ma è diversa dalla prospettiva storica che chiede piuttosto quali sono le dinamiche, quali sono le cause che ci hanno portato nell'antropocene. Ma comunque è importante capire, e come vedete, richiede un approccio di storia globale, richiede soprattutto anche di ripensare la storia dal punto di vista della interazione uomo-terra. Perché anche lì bisogna vedere gli effetti che l'uomo ha avuto sul clima, e ve ne mostrerò un effetto subito, ma non subito, faccio prima altre cose, e viceversa l'impatto che l'uomo ha subito grazie a cambiamenti climatici. Cioè questo è un po' uno schema che vuole spiegare che gli uomini non fanno parte solo della biosfera. Certo che fanno parte della biosfera, senza la biosfera non potremmo sopravvivere. Ma oramai hanno costruito una sfera terrestre loro, che viene chiamata la tecnosfera. Cioè la somma di tutte le infrastrutture, di tutti i cambiamenti che abbiamo fatto, i nostri sistemi politici, il traffico globale. Questo già come su una scala di cambiamento di materia e energia, ha creato dalla nicchia nella biosfera da cui siamo nati, emersi, una sfera terrestre sui generis, come la biosfera, come l'atmosfera, di scala veramente globale. Ecco, vi ho parlato di intercambio tra sistema terrestre e umanità già molto presto nella storia. Qua un esempio, siamo scampati per un pelo a una nuova era glaciale, a causa dei primi cambiamenti antropici. Sembra, e questo gli scienziati della Terra me lo confermano, che questi primi cambiamenti antropogenici, cioè primo uso dell'agricoltura, hanno già aggiunto una quantità di anidride carbonica che era sufficiente per spostare la prossima era glaciale, che ha praticamente creato questo periodo di stabilità chiamato l'olocene. Questa lunga stabilità viene, probabilmente è stata creata dall'uomo stessa, paradossalmente. Ecco, ma per parlare della tecnosfera, perché vale la pena o perché è giusto caratterizzare la tecnosfera come una sfera sui generis. Qua vedete un grafico che stabilisce un rapporto tra la massa dei corpi degli animali, vedete l'uomo qua in mezzo, e il tasso metabolico caratteristico di una certa specie animale. E vedete l'uomo qua tra i cimpanzi e i cavalli, cioè secondo il nostro peso caratteristico, usiamo l'energia caratteristica. E qua ci sono economie di scale, eccetera. Però se vediamo l'uomo non solo come, diciamo, essere nudo, ma come essere vestito con la tecnologia, io sono venuto con l'aereo oggi, abbiamo preso mezzi di trasporto, abbiamo tutta la tecnosfera mobilizzata per arrivare a questo punto, allora non siamo più su questa linea. Siamo veramente molto oltre. E in numeri, questo, come esseri, diciamo, biologici, consumiamo 90 watts circa. Ma come esseri tecnologici, 11 mila watt. Cioè questo è veramente una indicazione che non è giusto caratterizzarci come uomini semplicemente come un elemento della biosfera. Cioè, ripeto sempre, non bisogna dimenticare la biosfera essenziale per la nostra sopravvivenza. Se distruggiamo la biosfera, se perdiamo la biodiversità, perdiamo la vita, dipendiamo. Però abbiamo creato qualcosa di più, che bisogna capire. E bisogna capire come ci siamo arrivati, qual è il motore dell'antropocene. È chiaramente l'aumento della popolazione, aumento delle conoscenze, uso di varie forme di energia. E questo ha creato cicli di feedback e ha accelerato questo motore col passare del tempo. E bisogna capire questi meccanismi in dettaglio. Ecco, questo è un primo problema, un primo complesso di problemi di cui dobbiamo occuparci per capire come ci siamo entrati in questo antropocene. Secondo problema di ricerca, e anche questo ve l'ho già accennato, è la grande accelerazione. Cos'è la grande accelerazione? Questi grafici sono diventati famosi. Sono stati pubblicati da Stefan et al, un gruppo di scienziati e storici che si sono messi insieme e mostrano a sinistra tendenze globali di carattere socio-economico. Crescita di popolazione, crescita economica e così via. Tanti di questi grafici. Caratteristiche, grafici, caratteristici per la crescita dell'umanità su scala socio-economica. E a destra invece vedete tendenze di crescita di parametri del sistema terrestre, come aumento dei gas a effetto serra, come l'anidride carbonica per esempio, ma anche la cifidificazione degli oceani. E vedete quasi tutti questi grafici mostrano un aumento caratteristiche esponenziali, una tendenza verso una crescita esponenziale intorno all'inizio della seconda metà del ventesimo secolo. E visto che questi questi parametri sono molto diversi, uno è della biofisica del sistema terrestre, l'altro è delle caratteristiche economiche e sociali dell'umanità, vediamo qua una traccia di quello che vi ho annunciato, che siamo confrontati con un sistema accoppiato, un sistema che merita veramente essere chiamato uomo-terra, sistema uomo-terra. Ma questi grafici che sono basati su analisi di dati molto dettagliati, molto profondi e verificati, eccetera, ma la dinamica dietro non è ancora veramente analizzata. È un fenomeno, una specie di sfida intellettuale anche di capire cosa c'è dietro, come è successo questo e come funziona questo accompiamento. Questo è un esempio di quello che vi dicevo prima, che bisogna fare il secondo passo dalla scienza del sistema terrestre alla scienza del sistema uomo-terra. Ecco. E poi, chiaramente, una grande accelerazione, va bene, fenomeno del secolo scorso, ma continua, ovviamente, non può andare avanti così. Una crescita esponenziale su un pianeta con risorse limitate va a finire in un colasso. Bisogna frenare questa accelerazione e bisogna trovare i meccanismi, le dinamiche che possono aiutarci a frenare. Quali sono i punti critici? Quali sono le dinamiche forse non lineari da capire? Ecco. E alla fine siamo confrontati con una grande alternativa. o una dinamica del fallimento, quando la crescita continua, e vi dico francamente, tutto sembra che la crescita continui, o una dinamica di rigenerazione che richiede cambiamenti molto fondamentali del nostro comportamento su questo pianeta. E l'agenzia umana, sia individuale che collettiva, chiaramente, è decisiva. Ma anche fattori dinamici, aspetti dinamici, non sono ancora bene capiti. Per esempio, è un processo più o meno continuo o è un processo di una certa discontinuità? Ecco, brevemente, il terzo problema da analizzare è i regimi temporali, perché i regimi temporali sono molto complessi in questo caso. Ma sono importanti, perché quello che bisogna raggiungere alla lunga, è chiaro, bisogna creare una grande transizione energetica. Passaggio da un regime di energia estrativa, fossile, a un'energia rinnovabile. Se continuiamo a vivere in una tecnosfera, bisogna che sia energeticamente indipendente e con dimensioni simili a quella della biosfera terrestre. E la fonte primaria di energia dovrebbe essere solare. E bisogna anche creare un metabolismo circolare della tecnosfera, che può coesistere con la biosfera, una economia circolare in altre persone. Va benissimo. E con qualche variazione, credo che tutti ci possiamo mettere d'accordo su questo scopo. Però possiamo raggiungere questa trasformazione in tempo. Questa è la domanda critica. Per questo i regimi temporali sono così decisivi. Ancora una illustrazione di questo fatto. L'urgenza di una trasformazione energetica globale. Se guardate lo sviluppo del mix, della composizione energetica di varie fonti su scala globale, in questo periodo di circa 35 anni, vedete questo. Va bene. Il carbone si sta leggermente ritirando a favore del gas. Ora forse cambia ancora una volta. Però le energie rinnovabili fanno 4%, rappresentavano 4% nell'anno 2019 e dovrebbero essere, se vogliamo raggiungere l'accordo di Parigi, 100% nell'anno 2050. E questo è quello che è cambiato. Praticamente poco. Va bene. E le ragioni sono anche molto chiari. Dietro c'è una industria dell'energia fossile molto potente. Perché è di gran lungo la più grande operazione tecnica su questo pianeta. Con le potenze economiche e politiche che sono dietro. Non vado a spiegarlo in dettaglio perché lo sapete tutto. Ecco. Ecco. Ma voglio rimanere sull'argomento delle scale temporali. Perché sono processi molto probabilmente non lineari. Sono processi che conoscono effetti domino e che conoscono catene di reazioni. Questo lo sappiamo già e questo grafico lo illustra. Lo sappiamo già dal sistema climatico. Per esempio che le calotte polari sono pomotrici di effetti domino e di cascate di ribaltamento sul sistema planetare. Per questo alcuni processi succedono anche prima della soglia del 1,5 gradi o 2 gradi. Perché sono questi effetti non lineari. Ma cosa succede quando teniamo conto che siamo in un sistema uomo-terra? Come lo vediamo con la guerra contro l'Ocraina e tutti gli altri conflitti che vediamo. Ancora più complicato e ancora ci possono essere effetti non lineari. Ecco. Altro aspetto della dinamica temporale. Va bene. Collassi nel passato sono successi, società antiche, città che sono crollate e spesso quello che ha cambiato poi un ciclo di innovazione. Questa è stata anche, se vi ricordate, siamo 50 anni dopo il Club di Rome e la risposta in questo periodo immediata è stata no, ma voi dimenticate l'innovazione, il fattore dell'innovazione. Però possiamo capire che la crescita illimitata richiede cicli di innovazione accelerati, sempre più rapidi, per evitare il collasso. Va bene, possiamo introdurre delle innovazioni, ma dobbiamo sempre più rapidamente farlo. E questo è un altro. Vi raccolgo solo alcuni argomenti e sono già alla fine di questo capitolo sulle scale temporali. La cosa più essenziale viene mostrata da questo grafico, perché ogni sfera terrestre ha la sua caratteristica scala temporale. Cioè, chiaramente la litosfera è quella più lenta, l'atmosfera è più veloce, biosfera ha la sua, la tecnosfera, cioè la sfera in cui facciamo commerci globali in millisecondi, è di gran lunga la più rapida. Ma sta trasmettendo la sua dinamica temporale anche alle altre sfere terrestre, cioè perché non è isolata. Lo vediamo con il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico non ha solo non paragoni nella storia, o pochi paragoni, parliamo del Pliocene, tre milioni di anni fa, ma i cambiamenti sono a gran lunga più rapidi. Questa è la cosa singolare dell'Antropocene. Basta qua. Non si tratta solo di capire, ma di cambiare il nostro mondo. E queste sono le reazioni. Questo è di Parigi, oggi lo vediamo a Shammel Shaikh, questo è quello che molti giovani fanno, dappertutto nel mondo, che sono giustamente impazienti. Cosa possiamo fare noi scienziati? Noi scienziati, credo, bisogna ricordarsi di un detto di Albert Einstein, non bisogna risolvere, non possiamo risolvere i nostri problemi con lo stesso pensiero che abbiamo usato quando li abbiamo creati. Bisogna cambiare anche, diciamo, il pensiero della scienza. Ecco, un po', un piccolo contributo abbiamo cercato di fare con la fondazione di un nuovo istituto, a Jena, posto del romanticismo tedesco, dove Alexander von Humboldt e altri, Hegel e Goethe, hanno discusso già sul rapporto natura-cultura. E ci sono anche altri istituti Max Planck che si occupano di problemi ecologici. Qua comincio a diventare un po' più impressionistico per essere più rapido. Un grande fattore per creare questo nuovo istituto, questa nuova comunità, è stata il Haus der Kulturen der Welt, la Casa delle Culture del Mondo, una istituzione culturale a Berlino che ha lanciato molte, ha fatto una cosa molto poco usuale nelle istituzioni culturali, perché normalmente cambiano, hanno un tema dell'anno, eccetera, ma loro per dieci anni, seguendo Paul Krutzen, che è stato anche all'inizio di questo movimento, hanno insistito che l'antropoceno non è un tema di moda. Bisogna veramente radunare vari settori della società, non solo la scienza, ma anche artisti, ma anche attivisti, per confrontare questa grande sfida dell'umanistica. E hanno organizzato i cosiddetti campus dell'antropoceno, una specie di summer school, incontri di, come dicevo, artisti, scienziati, attivisti, politici. È questo modello che ha cominciato a Berlino e si è poi sparso dappertutto nel mondo. Anche in Italia il nostro collega Pietro Modeo, anche uno storico della scienza, ha recentemente organizzato un tale campus nella città dell'acqua Venezia. Ma poi siamo stati anche al Mississippi, che è un'altra zona critica dell'antropoceno. E questo ha, diciamo, rafforzato una comunità, anche di molti giovani, a connettere i problemi locali con i problemi globali, i problemi di cui si occupano come attivisti nella zona in cui vivono con questa prospettiva globale. Cioè, cooperazione è la cosa, è la chiave per tutto. E vi racconto un attimo come il nuovo istituto è costruito, quali dipartimenti c'è. C'è un dipartimento di storia e un atto di archeologia per capire questi processi di interazione tra uomo e natura nel passato, colassi, resistenza contro cambiamenti. C'è un dipartimento che si occupa del sistema terrestre, uno che si occupa della biosfera e uno che si occupa delle scienze sociali, politiche e economiche. Dipartimenti, questo si usa. Ma in questo caso credo che sia molto importante che la ricerca non sia divisa in dipartimenti, che tutti confrontano insieme i problemi globali. Bisogna, anche su livello, questo sarà un istituto che lavorerà molto con dati, con modellizzazioni e bisogna riunire fonti molto diverse di dati sociologici, dati sul sistema terrestre, eccetera. e, come dicevo, capire anche quello che si può imparare dal passato, dalle trasformazioni che l'umanità ha subito localmente e in parte anche globalmente. Ecco, insisto sulla cooperazione, sul pensiero integrativo, sulla modellizzazione, sul focus sulle dinamiche temporali, questo ora lo potete capire perché ho insistito tanto sul focus temporale. E ovviamente un istituto può essere solo un nodo in una rete, non può fare tutto in un luogo, non è un cern dell'antropocene, è impossibile, ma bisogna veramente creare una rete di collaborazioni perché il problema è così grande e complesso. ecco di nuovo, questa è la sfida e non so se ancora qualche minuto, perché se parlo di queste cose, crisi, crisi, crisi multipla, uno potrebbe dire parliamo solo del problema, ma è chiaro un sistema complesso, non lineare, eccetera, e bisogna rivelare le connessioni, questo è anche chiaro, ma cosa possiamo dire delle soluzioni? Ovviamente ora non sono in grado in cinque minuti e neanche se avessi cinquanta di offrire soluzioni a tutti questi problemi, ma un po' bisogna pensare sulle soluzioni. Cioè io credo che fare le domande giuste è già di grande aiuto. Allora uno si può chiedere quali interazioni tra processi di cambiamento, l'esperienza umana, comportamento e pensiero guidano processi di trasformazione e di successo. Possiamo anche guardare il passato a chiederci quali interazioni hanno avuto successo a raggiungere trasformazioni, diciamo, verso il positivo. L'abolizione della schiavitù, per esempio, o altre grandi trasformazioni dell'umanità. È difficile. E qua posso solo, diciamo, condividere qualche idea. Io credo che ci siano alcuni requisiti. Bisogna creare ponti tra conoscenza e azione. Questo è il grande argomento. Tutti dicono sempre, sappiamo già tutto, ma quello che manca è l'azione, anche l'azione politica. Ma quali sono i ponti? Io credo che bisogna, in altre parole, pensare più anche, non solo agli scopi, a quello che bisogna raggiungere, ma anche ai processi, bisogna capire meglio i processi di trasformazione. Bisogna creare un sapere trasformativo che capisce come e quale connessioni possono esistere tra pensiero e azione. E questa è una tesi. Gli attori individuali e collettivi devono essere messi in grado di riferire le proprie esperienze e attività locali ai cambiamenti globali e di raggiungere l'auto-efficacia a livello globale. Questa è una meta, un postulato, e può avere delle conseguenze anche semplici. Per esempio, già se riusciamo a concepire il nostro impatto sul sistema terrestre in formule come, come si dice, carbon footprint, queste cose qua, allora ci aiuta già a capire la nostra interazione con il sistema terrestre. Questo è, diciamo, solo per capirlo. Per interagire ci vogliono altri mezzi, ma già stabilire questi ponti mi sembra importante. E io spero, in fondo, se posso essere onesto, ho parlato tanto della non linearità e di questi sistemi complessi, che alla fine questa non linearità forse ci potrà anche aiutare a mettere in moto processi che possono aiutare. Abbiamo bisogno di punti di svolta, tipping points, ma in questo caso socio-epistemici. E questo l'ho introdotto a posto per Roberto. Voi non lo potete apprezzare, ma questo è un punto che Roberto ama, ma glielo diciamo. Ah, domanda. Ci sono esempi storici? Io, non solo perché amo, come avete visto, da Arvisa l'Italia, io credo che il Rinascimento sia un buon esempio. Ma come possiamo stabilire un rapporto tra quello di cui abbiamo bisogno ora e i processi di cambiamento nel Rinascimento? Qualcune proposte. Nuove piattaforme. Nel Rinascimento abbiamo visto l'introduzione della stampa. Ora abbiamo i social web, ma forse bisogna trasformare i social web in qualcosa di più, qualcosa che ci aiuta veramente ad agire, per esempio un epistemic web, che porta anche il sapere necessario, non solo i rapporti sociali. Il Rinascimento ha conosciuto nuove forme di partecipazione sociale, forme emergenti di democrazia nelle città. Forse noi abbiamo, e questo veramente è anche un argomento ora a Shammel Shaikh, un nuovo contratto sociale per la cooperazione globale. Allora vediamo che anche la questione della giustizia non è una cosa extra, una cosa marginale. È intimamente connessa al problema della crisi del clima. E senz'altro il Rinascimento, per questo vi ho fatto vedere la Catedrale di Firenze, è stato un periodo di grandi progetti. e io non ho dubbio, non c'è un ritorno alla natura. Abbiamo avuto un impatto globale sul nostro pianeta. Allora bisogna costruire infrastrutture, non c'è verso. Bisogna trasformare il sistema energetico, non in Italia, non in Europa, ma su scala globale. Abbiamo bisogno di un commercio di idrogeno, cambiamento, nuove infrastrutture. E questo mi sembra un'altra parallela. Ecco, ma in fondo la mia speranza si basa su una stimolazione reciproca tra processi sociali e cognitivi. E questo secondo me è una formula che caratterizza anche il Rinascimento. Ci sono altri esempi, ma non abbiamo tempo di parlarne. Il Tennessee Valley Authority progetto, il New Deal, che ha dato il nome anche al Green Deal, finalmente. Con aspetti problematici, non c'è dubbio. Ma anche questo è un esempio storico da studiare. E questo è solo un grafico per illustrare che abbiamo pensato come mettere insieme ricerche qualitative e quantitative, come analizzare i dati, creare modelli, paragonarli poi con l'interpretazione umanistica di certi processi sociali. Ecco, e sono già alla fine. E ripeto, quello che vogliamo fare è tutto basato su collaborazione. Abbiamo il vantaggio di una base istituzionale abbastanza stabile e la speranza di formare una nuova generazione che pensa in questi termini. E vi ringrazio per la vostra attenzione. Ringrazio moltissimo il professor Ren, non solo per appunto la presentazione che ci ha fatto, le domande che ha posto, le tre domande che in qualche modo danno una cornice per la ricerca, che sono appunto come ci siamo arrivati, qual è il ruolo della grande accelerazione e capire quali sono le dinamiche e poi quali sono appunto i regimi temporali, che mi è sembrato una cosa molto importante, quello di pensare diversi regimi temporali e di come la tecnosfera in qualche modo in questo momento si riverberi su tutti gli altri regimi temporali. Ecco, tutte queste cose sono importanti, ma poi lo ringrazio perché in qualche modo ci ha fatto un grande invito, cioè un grande invito a unirci a questa ricerca che senz'altro è di grande interesse per il Politecnico, dove tutta una serie di cose si stanno sviluppando e quindi niente, quindi grazie mille. Direi che aprirei il dibattito, mi sembra che ci sono molte cose che possono essere approfondite, non abbiamo il tempo di farlo in maniera estesa, però sicuramente abbiamo il tempo di rispondere ad alcune domande. quindi va bene. Buonasera, è un intervento interessantissimo e quindi è venuto alla domanda. È possibile realizzare anche progetti di citizen science in modo che i cittadini possano in qualche modo collaborare, non solo sentirsi partecipi ma anche fare qualcosa? Grazie per questa domanda, mi sembra essenziale. Infatti questi campus antropocenici hanno già avuto una componente di citizen science, non perché l'abbiamo lanciato noi ma siamo stati contattati da gente che lavora per esempio sulle conseguenze mediche dei cambiamenti ambientali sul Mississippi, ci sono stati tanti contatti e credo se non realizziamo questa partecipazione ci mancherà qualcosa anche sul livello intellettuale, sul livello della conoscenza. perché per esempio il conflitto tra perdita di biodiversità e l'agricoltura, che è sempre necessario per nutrire le nostre social, questi conflitti spesso sono polarizzati, sono ideologici. quando invece uno mette insieme rappresentanti, sia contadini che fanno un'agricoltura ecologica, sia quelli che sono impegnati nella protezione della biodiversità, e parlo di un esempio concreto, vediamo emergere nuove soluzioni dal contatto diretto tra gli attivisti ma attori che sono coinvolti in questi campi. Questo mi sembra una fonte di sapere che non può essere sostituita da un sapere solo modellizzato o accademico. Mi sembra importantissimo in altre parole. Buonasera, la ringrazio anch'io molto per l'efficacia nella sua presentazione. Ho due domande. La prima, lei ha parlato di sistemi complessi, di relazione complessa, circolare tra natura e natura, di coevoluzione. Contessualmente ha usato però una parola, human agency, collective agency, per chiedersi cosa possiamo fare come collective agency, human agency, per invertire la rotta. Ora, penso che proprio per non riproporre le stesse cornici dei problemi che cerchiamo di risolvere, anche le parole siano importanti, i concetti che usano la scienza. E quindi finché continuiamo a pensare e utilizzare come studiosi il concetto di human agency invece di relational agency, noi continuiamo a riproporre questa... Faccio un esempio, e questa è la domanda che pongo anche a uno studioso e uno storico della scienza. Come possiamo, appunto, invertire, per esempio, ridefinire questo concetto di human agency quando la nostra scienza ancora riduce lo studio dell'uomo distaccato dalla natura? Quando ancora, cioè, esiste il nature culture divide, il mind matter divide, come dal suo punto di vista di studioso le scienze sono pronte a superare i propri steccati e gli statuti disciplinari e pensare in maniera multidisciplinare? La seconda domanda è più tecnica, proprio per favorire la partecipazione attiva dei cittadini. Esistono degli ambienti tecnologici, non so, penso alla blockchain, che voi utilizzate, che possono favorire la cooperazione e la partecipazione attiva, appunto, e l'interfaccia tra science e policy, in modo da favorire quella traduzione e quel lavoro che è necessario per risolvere, affrontare problemi complessi. Grazie. Grazie per le due domande, tutti e due abbastanza complesse, devo dire, allora mi sforzo a rispondere. Comincio con la seconda domanda. I blockchain sono molto in discussione, come lei sa, anche per l'uso enorme di energie che richiedono. E non credo a una unica prioritaria soluzione tecnica. Invece bisogna entrare negli ambienti dove già sono in corso dei cambiamenti. Io credo che uno possa, che possiamo imparare molto dai lavori di una Elena Ostrom, che ha guardato quali sono, come comunità riescono a conservare le proprietà comuni, anche se c'è questa tendenza esplotativa di questi beni comuni. Ma affrontare il bene comune globale, come è l'atmosfera, per esempio, è molto più difficile. Allora, sempre dobbiamo confrontare questo abisso tra il locale e il globale. E lì credo veramente che le tecnologie ci possono aiutare, perché possono aiutare a rappresentare il globale in forma locale, per così dire. I colleghi dell'Arizona State University hanno creato quello che chiamano un decision theater, che è una forma multidimensionale di rappresentare cambiamenti in interazione. Se voi siete una comunità di una località che vuole, non so, creare un campo solare o una cosa così, quali sono le conseguenze per l'ambiente, per la comunità? Uno può immediatamente prevedere alcune delle conseguenze e reagire nella discussione alle conseguenze previste. Allora lì posso immaginarmi che le tecnologie possano essere d'aiuto. La sua prima domanda è più difficile. Io credo che nei discorsi filosofici c'è una tendenza alla semplificazione, di contrapporre il moderno contro il postmoderno o altre dicotomie. Se uno guarda la storia della scienza, ma non in senso stretto della scienza, ma la filosofia, della filosofia naturale, vediamo tante forme molto diverse, soprattutto anche in culture non europee, di capire quello che noi chiamiamo rapporto natura e cultura. Non c'è un unico modello adottato dall'Occidente o dalla scienza. Anche nell'Occidente vediamo varie forme. Faccio un esempio. Se guardiamo il bellissimo poema di Lucrezio, di Rerum Natura, lui parla di federa, parla di alleanze nella natura o anche tra natura e uomo, e non distingua effettivamente. Per lui le federa sono federa che comprendono natura e uomo. Faccio un altro esempio. Giambattista Vico. Giambattista Vico parla del diritto in natura. Cioè lui ancoreggia il diritto, come lui dice così bene, dei socievoli. Gli uomini sono per lui socievoli, cioè vogliono la società. Ma di nuovo è mettere le radici nella natura. Cioè io vedo nella storia sia dell'Occidente che di altre culture tanti punti di patenza per andare oltre questa dicotomia di cui lei parlava. Io ho molta simpatia per questo, ma bisogna cercarsi gli aliati anche per questo. Grazie, c'era una domanda lì. Grazie e complimenti per l'intervento. Tra i molti spunti che ci ha dato ho trovato molto interessante il riferimento al web epistemico, perché credo sia in questo momento l'obiettivo principale verso cui chi si occupa dei rapporti tra scienza politica, media e società vorrebbe tendere. A questo proposito la mia domanda è questa. Tanto è auspicabile raggiungere quell'obiettivo quanto sta sembrando sempre più impossibile riuscire a raggiungerlo, perché a me sembra, immaginando il web 1.0, che forse quello fosse la piattaforma meglio attrezzata per raggiungerlo. Mentre invece il web 2.0 sta riportando in auge quei conflitti epistemici tra autorità in competizione. Il Covid-19 ci ha fatto vedere che non soltanto gli esperti e le esperte in epidemiologia, in virologia, valgono tanto quanto chiunque di noi non avendo quelle competenze può interagire, ma che addirittura tra esperti ed esperte stesse si sono smentiti, si sono accapigliati, si sono insultati, generando un clima di sfiducia istituzionale nei confronti dei saperi esperti. Allora la mia domanda è, dato questo contesto che ovviamente ho dovuto riassumere in tre parole per non rubare troppo tempo, come immagina che sia possibile raggiungere quell'obiettivo? Grazie. Ovviamente, grazie innanzitutto per questa domanda e questo pensiero dietro che mi è molto simpatico e che condivido completamente. Ovviamente lì non... dove posso cominciare? Non vi posso offrire una soluzione, perché questi sono processi anche che sono grandi imprese, politiche, economiche, eccetera. Ma io mi rivolto un po' contro anche i miei colleghi sociologi, esperti dei media, che si limitano a criticare il Facebook, il Metaverse, Google o Amazon, i meccanismi. Analizzano i meccanismi, fanno parte della nostra realtà sociale e cercano di introdurre un po' più di giustizia, un po' più di fairness in questi mesi. Io credo ci sono errori molto più strutturali da criticare. E non vedo... in altri domini l'Europa è stata in grado a correggere queste tendenze che emergono da Silicon Valley perché non pensare un po' più alla grande, perché non pensare che la rete di cui abbiamo bisogno architettonicamente deve essere un po' diversa da quello che ci offrono i Big Five. Lancio questo pensiero, lo discuto e forse possiamo in Europa... Abbiamo altri esempi in Europa, no? In Germania sono abbastanza contento, non con tutto quello che succede in Germania, ma con la nostra televisione pubblica, perché è un sistema abbastanza stabile che resiste alla commercializzazione fino a un certo punto. Ora è un po' in crisi e ci sono forze che lo vogliono abolire del tutto, ma io credo che sia invece da difendere. Un sistema di informazione che è un po' al di là degli interessi immediati dei politici e economici. Allora uno spazio così bisogna creare sulla web e usare tutta la potenzialità di connettere i saperi sul web, di distinguere tra le opinioni e le expertise. In linea di massima tecnologicamente la potenzialità c'è, ma bisogna fare uno sforzo sociale, politico, per realizzare questa potenzialità. Io su questo ho una speranza, non di più. Grazie. Grazie, ci sono... Complimenti soprattutto per la sua chiarezza. E' agevole seguirle, questo è un grande merito. Io ho due questioni. Uno, se ho ben colto, l'accelerazione di questi processi di discrasia tra l'uomo e l'ambiente è il problema, perché nel passato il Sapiens ha sempre incasinato il mondo in cui vive. Dopo la glaciazione ci abbiamo messo qualche decina di migliaia d'anni, abbiamo colonizzato tutti i continenti, e non ci sono più stati i leoni in Asia, non ci sono più stati i cavalli in America. Poi, undicimila anni fa, con la rivoluzione dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e con l'inizio dell'urbanizzazione, abbiamo desertificato la Mesopotamia. Cioè, di guai ne abbiamo sempre fatti. Nel Rinascimento, con l'urbanizzazione, abbiamo avuto, guarda caso, la peste che è stato come un meccanismo autoregolatorio e adesso il Covid ci risuona un pochettino. Quindi mi sembra che se ci guardiamo indietro, casino l'abbiamo fatto sempre. Se ci guardiamo indietro, non siamo mai riusciti a riparare. Il sistema ambiente, in qualche modo, è stato più forte dei nostri disastri. Però, decine di migliaia d'anni, migliaia, secoli nel Rinascimento, adesso in pochi decine d'anni sembra che gli diamo la botta definitiva. Io, per mia natura, sono ottimista. È una formazione biologica. Secondo me, in qualche modo, ce la potremmo fare. Ma non è che vedo, oltre alle diagnosi precise che lei ha fatto, grandi terapie. E, da ultimo, aggiungo questo aspetto. Sono colpito che nei giovani, io sono un medico pratico, quindi sono a contatto con la gente, c'è un fortissimo disagio che si esprime con ansia. Ad esempio, i giovani mi dicono noi non vogliamo far figli perché fra pochi anni il clima scoppierà e non si potrà più viverci. Allora, quando si passa dalla paura di un oggetto noto ha un'ansia senza oggetto, mi preoccupo perché si gira in tondo, non si fa nulla. E quindi queste belle analisi, e la ringrazio per la sua, mancano purtroppo il momento di terapia. Nel passato terapie non ci sono state, non so se saremo più bravi questa volta. Grazie. Sì, forse l'unica risposta che le posso dare è di correggere la prospettiva sul passato. Sì, senza disputere che i guai li abbiamo fatti, ma ci sono delle comunità, alcuni indigene che sopravvivono ancora nella foresta pluviale, o società che a lungo hanno vissuto un periodo di stabilità come la società giapponese nel periodo di Tokugawa nella prima età moderna. Cioè, momenti di stabilità ci sono stati, bisogna dire. E quello che è nuovo oggi è che questo disastro è globale. Ha ragione, i disastri sono stati locali nel passato e potevamo muoverci verso un altro lato e ricominciare. Però bisogna aggiungere che ci sono anche esempi, per esempio, archeologici, dove società sono state confrontate con disastri, extreme events, e hanno saputo arrangiarsi, hanno saputo sopravvivere. E forse bisogna imparare da questi esempi. Ovviamente non ho una terapia, globale, chi sarei di farlo. Ma imparare da questi casi forse ci può aiutare. E trasformare l'atteggiamento dei giovani in un atteggiamento più costruttivo mi sembra importantissimo. Ma non con le parole vuote, perché c'è tanta ipocrisia. Anche nel Sharm el-Shaykh c'è tanta ipocrisia. E io credo che un primo passo è appunto la chiarezza e l'onestà di dire in quale stato siamo. Siamo in un pessimo stato. E su questo non c'è. Non c'è una seconda opinione, credo. E su questo le do retto. Ma non bisogna abbandonare la speranza. Sarebbe troppo peccato. Biologicamente sopravviveremo di sicuro. Siamo abbastanza numerosi per questo. Però non vogliamo vivere un mondo in cui popolazioni muoiono di massa per le condizioni climatiche. In zone che non saranno più vivibili. Anche in Europa può essere che alcune zone non saranno più vivibili. Questo è quello che ci spetta se non cambiamo. No, grazie. Grazie. Ci sono altre domande. Direi l'ultima se ci fosse. Se no abbiamo leggermente sforato ma era previsto. Dunque, bene. Ringraziamo nuovamente il professor Ren.